E il cosiddetto sistema Musella, quello che emerge al centro dell'inchiesta della Procura di Napoli, che ha portato all'esecuzione di 11 misure cautelari, coinvolgendo politici, amministratori locali e imprenditori campani. Salvatore Musella, costruttore napoletano, è al centro delle accuse con la Procura, diretta da Nicola Gratteri, che ipotilizza un'operazione orchestrata da Nicolo Dati, ex componente della Direzione Nazionale del Partito Democratico, per favorire Musella nell'ottenere appalti pubblici in cambio di benefici personali. Sebi Romeo, ex consigliere della Regione Calabria, è coinvolto sempre, secondo la Procura di Napoli, nella rete del costruttore Musella, in una posizione più lieve all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria imposta dal GIP. Secondo l'ordinanza, il giudice ritiene che Romeo abbia agito con d'accordo a Dati nel suo ruolo politico per agevolare Musella nelle sue ambizioni di ottenere commesse pubbliche in Calabria. Tuttavia, il GIP non ritiene che ci siano elementi sufficienti per dimostrare una corruzione effettiva di politici e amministratori calabresi, nonostante la partecipazione di Sebi Romeo. La relazione tra Odati e la Calabria, infatti, si sviluppa nel contesto delle regionali del 2019, quando Nicola Zingaretti, all'epoca segretario del PD, inviò Odati in Calabria per riorganizzare il partito e affrontare le prossime elezioni regionali. Questo ha probabilmente contribuito a consolidare il legame tra Odati e Sebi Romeo. Gli investigatori hanno infatti intercettato numerosi dialoghi che sembrano confermare la solidità di questo rapporto. Secondo l'accusa, Romeo avrebbe ricevuto 10.000 euro come compenso per la sua mediazione presso pubblici ufficiali della regione Calabria, al fine di favorire Musella nell'aggiudicazione delle gare di appalto. La consegna del denaro sarebbe stata effettuata da Odati. Il GIP sottolinea la prontezza e la disponibilità di Romeo nel collaborare con Odati, affrontando lunghe trasferte e partecipando a riunioni sospette funzionali alla consegna del denaro. Gli inquirenti hanno ricostruito un incontro nell'ufficio romano di Odati con la partecipazione di Romeo, Musella e un imprenditore calabrese. Quest'ultimo avrebbe poi accompagnato Musella in trasferta a Catanzaro, dove avrebbe ottenuto informazioni su un bando di gara per la ristrutturazione dell'ex scuola Chimirri. Un'inchiesta evidenzia quindi una presunta trama di connessioni illecite tra esponenti politici, imprenditori e appalti pubblici con Musella al centro di un presunto sistema di corruzione.